Antonio Pagano Rivelazioni Digital painting 50x70 cm Immergiamoci in una narrazione introspettiva sulla scia di sentimenti che si destreggia in uno studio artistico che riversa nella digital art. Così Antonio Pagano plasma l'opera Rivelazioni in cui osserviamo un corpo che sembra insorgere fra i moti floreali e linee pittoriche di colore nero, dinamiche come fossero spine che si attorcigliano sul corpo. Livelazioni pungenti che dialogano con l'osservatore coinvolto nel tessuto pittorico. L'artista sviluppa un linguaggio innovativo circa l'avanguardia contemporanea ma al contempo riesce a richiamare quella valenza intimista che permea di simbologie. Pensando a te Digital painting 50x70 cm Immergiamoci in un'opera estremamente pop dal punto di vista cromatico. I colori dominano la scena, raccontando però quel senso di malinconia che ritroviamo nel titolo. Così Pagano materializza l'idea della nostalgia, l'altalena vuota indiviene sinonimo così come l'assenza della figura umana, come se il paesaggio fosse lasciato in balia della natura che regna sovrana. La natura diviene il narratore silente della scena, ritmata dal dinamismo cromatico che interrompe la staticità figurativa. Lo chiamavano Gio, digital art 50x70 cm Immergiamoci nell'ultima opera presentata da Antonio Pagano, un nuovo scorcio narrativo plasmato in chiave pop. Un linguaggio poliedrico che tocca l'apice in quest'opera dove forme dinamiche geometriche si fondono alla materia pittorica, dando vita ad un linguaggio innovativo volto a coinvolgere la collettività. E' così che Antonio Pagano sembra voler raffigurare l'essere umano in balia delle suggestioni della vita, mosso a sfaccettature cromatiche che a loro volta danno vita a quelle che sono le illusioni del mondo, i sentimenti, tutto ciò a cui l'essere umano viene lasciato in balia. Marley Robinson Tous les matins du monde Olio su tela 120x150 cm Intense velature pittoriche plasmano la composizione dinamica di matrice introspettiva di Marley Robinson. Osserviamo il tratto pittorico fluido, le velature cromatiche bilanciano luce ed ombre, i pesi pittorici plasmano la struttura materica della composizione, rendendo plastico e tridimensionale il corpo. Osserviamo una struttura corporea ben definita e proporzionata. Il dinamismo pittorico mostra il sapere conoscitivo dell'artista Robinson. Entrando nel vivo della struttura emozionale dell'opera, la composizione risulta un racconto introspettivo dove la donna viene raffigurata di schiena intenta a guardare un bagliore luministico a noi sconosciuto. L'amer a let. Olio su tela 120x150 cm. Immergiamoci in un'intensa composizione figurativa plasmata dallo studio di Marley Robinson, la quale immette la sua sensibilità nella valenza emozionale delle sue composizioni. Su uno sfondo informale si anima una figura femminile dai connotati figurativi. Possiamo denotare come essa sia di unità avanzata. L'artista la raffigura con una posa armonica, il corpo risulta proporzionato e bilanciato. Emerge una forte dignità compositiva nelle gesta della donna, che sembra si stia per alzare. Lo sfondo informale non ci consente di percepire la dimensione spazio-temporale, ma conduce lo sguardo verso le fattezze figurative, riuscendo a conferire l'idea di tridimensionalità e il realismo della figura. Humanity. Olio su tela 150x120 cm. Percorriamo il sentiero dell'anima, la via d'accesso all'umanità plasmata dallo studio pittorico dell'artista Robinson, che nelle sue opere racconta scorci introspettivi. Osserviamo questo frammento di braccio umano, che come una nuvola sembra adagiato nel cielo, sostenendone un globo. Sembra quasi un riferimento alla creazione del cosmo, mediante un braccio divino dalle fattezze umane. Ed è così che la Robinson materializza le sue suggestioni e riflessioni circa l'essenza umana, in un'opera estremamente poetica, dall'intima valenza spirituale. Teresa Sapone. Epistolare. Tecnica mista su tela 50x70 cm. Intense sono le increspature pittoriche, che si animano nell'opera epistolare di Teresa Sapone. L'artista ci immerge in una narrazione epistolare, un racconto cromatico fatto di certificazioni pittoriche, capaci di rendere materico il supporto. Osserviamo una composizione tridimensionale animata dal bilanciamento dei pesi pittorici, che risuonano la percezione emozionale di ognuno, si liberano nell'essenza della mente e del pensiero cognitivo, come uno scambio epistolare di narrazioni emozionali. Asteroide. Tecnica mista su tela 30x30 cm. Come un asteroide, l'opera di Teresa Sapone cela una storia, un viaggio dell'anima che squarcia le tenebre della vita, mediante la liberazione dell'arte. Per l'artista Sapone, l'arte è quella via salvifica che ci consente di accedere al nostro io, alla nostra essenza, mediante un linguaggio astratto, libero però da ogni forma di controllo della mente. Osserviamo un'opera materica che sembra richiamare proprio un asteroide, un frammento di un pianeta o di una massa altaterrena, che vuole evocare quella dimensione metafisica insita in ognuno di noi. Senza titolo. Tecnica mista su tela 30x30 cm. Lasciamoci avvolgere in una narrazione informale raccontata dall'artista Sapone, che nelle sue opere racconta frammenti del proprio io. Osserviamo quindi una narrazione materica, in cui è il colore a scandire l'essenza metafisica della composizione. Sembra come se l'artista stia raccontando quelle grepe dell'anima che plasmano il suo essere e che diventano materia emozionale. La lavorazione risuona nella percezione sensibile di chi osserva, emozionando l'anima e coinvolgendo la percezione sensoriale di ognuno. Carmela Tiziani Il Papa Olio su tela 80x60 cm Approcciamoci alla narrazione mistica inerente al mondo dei tarocchi, guidati dalla scena pittorica di Carmela Tiziani. Sappiamo che il Papa è la quinta carta degli arcani maggiori dei tarocchi. Incarna la lealtà, la franchezza e il rispetto degli altri, il buon consiglio e la vocazione ai suoi aspetti spirituali e materiali. La narrazione pittorica denota come l'artista abbia deciso di restare fedele alla narrazione figurativa del Papa così come i tarocchi lo descrivono, riuscendo però a conferire quel tocco pittorico che ne imprime l'essenza emozionale. L'eremita Acrilico e olio su tela 80x60 cm Approdiamo in una nuova narrazione poetica. L'eremita sappiamo essere la nona carta degli arcani maggiori dei tarocchi, incarnante la sapienza, la ricerca, l'osservazione e la comprensione. Osserviamo quindi una personale interpretazione fornita dall'artista Tiziani, che mostra la figura in modo dinamico. Su una barca intenta ad attraversare il buio, che assume una valenza salvifica, in quanto le tenebre non rappresentano una fonte di paura per l'eremita. La sua missione è quella di allontanarsi alla vita comune per restare in solitaria, e Carmela Tiziani nella sua poetica pittorica riesce a plasmare questa sensazione in modo estremamente accurato. Concludiamo il nostro viaggio con la sacerdotessa, acrilico e olio su tela 80x60 cm. Approdiamo verso una nuova narrazione poetica, evocante i tarocchi, con la sacerdotezza, definita antenata, muta ed enigmatica, portatrice di un linguaggio scuro a noi sconosciuto. Il suo potere è l'aquila, che scandisce indistintamente il corso della vita. Osservando il tessuto pittorico, si noti come l'artista abbia prediletto una tavolozza dai toni sgargianti accesi, assemblando questo ad una narrazione prospettica, in cui la sacerdotessa primeggia dietro di lei il corso dell'acqua, immerso in un sentiero naturalistico. Grazie per la visione! Grazie a tutti!